lo sapevo è scappato sono qui a passarmi il filo interdentale ma smettila non hai mai usato il filo interdentale non sai nemmeno come si fa e con questo guarda che io ti tengo d'occhio tengo d'occhio anche le scale ma soprattutto te fa molta attenzione max quella non ti molla è solo una direttante non è un problema